E' mancato un po' sicuramente un po' di fiato perché ha dovuto fare meno cambi del solito perché la partita appunto con l'assenza di Pagani ci ha costretto a fare dei quintetti un po' strani però dietro questo era stata ben impostata i ragazzi sono stati molto bravi non ho da fare appunto in particolare la squadra chiaro che si fa fatica quando si è davanti loro recuperano bravi a recuperare noi siamo lì punto a punto non ci riusciamo più a tirare perché tutte le volte che diamo una palla sotto non riusciamo a fare un appoggio senza un contatto questo non mi sta bene Il giornale d'andata comunque si conclude tra le formazioni al quinto posto adesso un po' di vacanza poi si riparte con centro una buona prima parte di stagione comunque nonostante tutto Sì abbiamo avuto degli up and down all'inizio anno poi abbiamo avuto un momento buono non si è mai contenti di quello che si fa per cui chiaramente dobbiamo sempre guardare oltre e saremo già pronti per la prossima di campionato che sarà una partita incredibilmente di fassino con centro grazie a tutti grazie a tutti